Parigi Makeup Come dicevo parleremo di tante novità, ma prima di tutto una piacevole riconferma, ovvero le protagoniste delle storie, Fabiola e Elena. Ciao Fabiola. Ciao. Ciao Elena. Ciao. E nuova un po' è anche la formula, vero Fabiola? Sì. Perché che cosa faremo? Fabiola sempre truccherà, sempre ci spiegherà come raggiungere un trucco perfetto, ma si limiterà a fare solo una parte, una metà del viso, non perché sia sadica, ma perché metteremo alla prova Elena, di conseguenza tutti voi, per vedere se Fabiola è stata brava a spiegarle, perché sennò sembrerebbe che poi non sono brave le telespettatrici, le signore e le ragazze a truccarsi. No, metteremo veramente alla prova Fabiola e i suoi tutorial. Allora, iniziamo, iniziamo ovviamente, siamo all'inverno, quindi cambiano completamente i colori, immagino, rispetto a quello che abbiamo visto finora e oggi iniziamo dal giorno. Sì, iniziamo dal giorno e con l'occasione con il nuovo trucco Claren, che ha proposto delle nuove matite e proprio un trucco anche di ombretti che saranno i colori di marco per l'inverno. E prego, allora, la tua parte di viso e poi vedremo Elena con la sua metà e metà parte. Perché? Allora, come sempre iniziamo con la base, quindi con un fondotinta, che stavolta come novità misceleremo con un siero, un siero double serum in Laren, che serve sia a dare un'ulteriore protezione alla nostra pelle che a rendere il fondotinta anche più uniforme e più allunga pianeta. Giusto un gocciolino che misceleremo poi con un pennello insieme al colore. E questa operazione la fai direttamente, va fatta direttamente nell'amano, sul dorso dell'amano. Sul dorso dell'amano, sì, in modo che avremo modo di miscelare bene il prodotto e poi stenderlo direttamente. Ecco la mia metà del miso. Stenderemo al gusto della sinnetta. E' più facile, Fabio o l'altro, utilizzare il pennello rispetto alla spugnetta? Io credo che una volta poi chiesa la manualità sia facile sia un l'uno che un punto, quel con l'altro. E anche l'effetto poi sarà molto simile. Forse ho proprio disteso, ho proprio un attore. E ora noi siamo partiti direttamente con la stessura del punto qui, con la Elena Javela, una base, quindi una penna idratante, che permette sia di mantenere la penne e muovere idratata, ma comunque di avere un'ottima base sul quale poi procedere con il trucco, altrimenti andremo a cercare soltanto la penne. Dopodiché procediamo con delle piccole protezioni, soprattutto sul contorno degli occhi. Facciamo comunque un correttore. Questo è un correttore, sia in un'azione correttiva che in un'altra. E poi eventualmente, nel caso fosse troppo chiaro, riprendiamo il pennello che abbiamo utilizzato per la stessura del fondotinta e minimizziamo il colore troppo chiaro, il colore del fondotinta che è rimasto leggermente perfettamente. Per un effetto più disteso, Clarenne ha fatto questo prodotto che serve a un concentrato, come se fosse un contorno d'occhi, però si può mettere anche sopra di tutto. Ne basta proprio giusto un gocciolino, ha un'azione filler si chiama, quindi ha un'azione sia distensiva che anche rude. Va messo, questo non troppo vicino alla patatura delle ciglia, ma solo proprio sul contorno degli occhi. Allora, abbiamo speso la base, abbiamo sistemato, abbiamo corretto il contorno, la parte del contorno d'occhi e adesso? Adesso andiamo a fissare il trucco con una cipria, in questo caso una cipria trasparente, utilizzando il pennello, che andremo a prima passare sul prodotto e poi a sportere leggermente per evitare il troppo eccesso. E' una volta stesa la cipria, procediamo con l'occhio. Parto con la stesura della base, chiara, su tutta la palpura, mobile. Ottima come per fare la pulgatura, la matica Laburn nuova di Minorenna, che andremo a stendere sull'attaccatura delle ciglia e ovviamente per fare questa operazione la matica dovrà essere accaduta. La pulgatura più o meno alta, a seconda sia della forma dell'occhio, della palpura, sia proprio a proprio piacimento dell'arriente. E quella rimane così, così netta, non vi è rispumata? La stessa operazione la facciamo anche sotto, quindi all'attaccatura delle ciglia, non all'interno, c'è proprio l'attaccatura. Prendiamo un pennellino a punta fine, anche proprio quello della matica a piacimento dell'arriente. e con un obiettivo più scuro andiamo a risfumare sia la portatura superiore, quasi da prenderla a un forno, non vedo che hanno l'incomo in base, sia come il potere. All'interno dell'occhio, una pezza nera che dà la profondità, e questa proprio all'interno. In questo tempo possiamo procedere con la stesura del mascara, anche in questo caso Claren ha fatto un nuovo mascara, e ha un effetto estremamente abundante, un pennellino utero. Quindi è vero quello, si sa in cui avete varie pubblicità di vari brand, che ti fa delle ciglia lungissime, il mascara allunga realmente la ciglia? Sì, e questo spesso dipende dal pennellino, in più all'interno di questo prodotto hanno inserito un ingrediente che ha un'azione allungante naturale delle ciglia fino a un millimetro e nell'arco di un mese. quindi è un prodotto vero e proprio di trattamento. Molto bello è anche la struttura del mascara alle ciglia inferiori, leggero e leggero. Dopodiché per dare luminosità all'occhio si può utilizzare un non greco estremamente chiaro all'attaccatura delle sovraccide che dà ampiezza all'occhio. in questo caso ripeteremo sempre la palette. Procediamo con la bocca, per sveglieremo una macchina che non servirà per fare quello stacco deciso tra le labbra e il rossetto, ma solo per dare uniformità al rossetto che andremo a mettere per far si che venga contenuto e non arrivato. Ora ne faccio metà, normalmente per stendere la matita si parte da quest'angolino delle labbra e la parte inferiore corrispondente. Poi si vanno a congiungere le due linee. in modo che non venga o troppo allargata o troppo riscritta la bocca. Dopodiché con un pennellino per le labbra andremo a mettere un rossetto dentro del tutto nuovo. e andiamo con il pennellino, perché ho preso il pennellino a risfumare il rigo che abbiamo fatto nella matita. vediamo con un tocco di card per eliminare sia definitivamente il volto che per il tocco di voi. Il card sta nella zona dell'ozicomo, non deve essere mai troppo larga la stesura, ma sempre delineata in modo da stavare leggermente il volto. Clarence ha fatto anche un prodotto che è un prodotto spray da utilizzare a finitura per il tocco che serve per fissare il tocco. Quindi a distanza, un po' più pulito, questo serve a rendere il tocco molto più resistente della potenza della città. Bello! Bene, questa era la metà parte di Fabricola. Adesso voi avete seguito le istruzioni che vi ha dato Fabricola, così come l'ha seguita Elena, guardiamo cosa siete capaci di fare in questo momento. Elena, ci spostiamo? Allora Elena diventa una di voi. Allora, inizio con il tuo di finta, che di solito io però stendo con le mani. Quest'idea ora del pennello mi è nuova. Allora, sicuramente uno può utilizzare la tecnica che preferisce di stendere il tuo di finta. Quella con il pennello, come dicevamo con Fabio, è sicuramente un modo molto veloce, semplice e anche pulito, in quanto non dovrai poi, dopo averlo steso, lavarti le mani per procedere a prendere gli altri prodotti per continuare a toccare. Aggiungo il siero. Anche se mi avevano sempre insegnato che il siero si mette prima di una crema. Quindi in questo caso? Allora, il siero, essendo un prodotto di trattamento, nella regola dei trattamenti funziona prima della crema. Quindi siero, crema e poi si procede con il trucco. In questo caso è molto veloce e pratico da fare e ha la stessa identica efficacia anche mischiato con il fondo di finta. Dando un valore aggiunto al fondotinta per prolungarmi la punita. Allora, miscelo. E vado a stendere. Ma c'è una tecnica per stendere il fondo di finta? Che so, dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto? Allora, si parte dalla zona centrale del viso verso l'esterno. Mai dall'alto verso il basso. Quindi ora vado a correggere il contorno occhio. Ma il correttore si applica prima o dopo il fondo finta? Allora, ci sono varie tecniche. Secondo me è meglio dopo, semplicemente perché dopo una volta steso il fondo finta puoi andare a vedere dov'è che è l'occhiaia meglio. Alle limite, se vedi che c'è uno stacco di colore, meglio con il pennello che hai utilizzato per il fondo finta andare a uniformare il colore che hai steso. Poi vado ad applicare questo per le piccole rughette, giusto? Sì. È un prodotto vero e proprio di trattamento, quindi ha un'azione curativa anche anche. Ma volendo questo lo posso applicare anche nel contorno labbra, perché ho delle piccole rughette? Sì, sì. Quindi vado a truccare l'occhio. Perfetto. Allora, abbiamo detto una base. La stendi su tutta la palpebra mobile. Perfetto. Il colore stendi mi provo anche all'attacco colore delle scille, così come ho fatto con il correttore sotto. Perfetto. Prendo la matita. Sì. Un po' di funzione. Perfetto qua, così la linea non viene perfetta, in quanto poi l'ombretto scuro vi aiuterà a sistemarla e a renderla più uniforme. Quindi, infine, serve il mascara. Perfetto. 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 Anche di sotto, eh? Sì, qui di sotto non la avrei mai messo. Invece, avendo le scilla anche nella parte inferiore, è molto bello per prendere più uniforme l'occhio, che non si veda magari le scilla superiori molto lunghe e sotto come se non ci fosse. Bellissimo. Un po' di cipria. Perfetto. Perfetto. Allora, infatti puoi decidere se metterlo prima del rossetto o dopo. Io ti consiglio di metterlo dopo, in modo che vedi i colori e quindi puoi scegliere il colore giusto per il rossetto. Non hai ricordato di stendere la matita all'interno delle labbra, però questo va a scelta tua. Se preferisci fare uno stacco un po' più netto tra il rossetto e la matita, fai come hai fatto te. Altrimenti, vedi che viene più scuro il mio, stende un po' di matita anche sulle labbra. Allora, complimenti a entrambe, complimenti a Fabiola perché abbiamo visto come Elena è riuscita subito a ritruccarsi, fra l'altro cosa che secondo me è abbastanza difficile. Immaginavo fosse difficile una mano diversa riuscire a rifare l'occhio così come l'avevi fatto tu, invece Elena ci ha riuscita perfettamente e quindi questo vuol dire che i tutorial funzionano. Voi, per non perdere nemmeno il più piccolo consiglio che Fabiola e Elena vi hanno dato, avete, oltre che ovviamente seguirci in televisione, altre due possibilità. Una è la pagina Facebook di Parigi Profumerie, voi sapete che il Parigi Makeup è realizzato in collaborazione con Parigi Profumerie, quindi sulla pagina Facebook di Parigi Profumerie troverete questa e tutte le puntate che verranno, ma anche potete ritrovare tutte le puntate che abbiamo fatto durante la primavera e l'estate scorsa. Grazie a tutti voi e buona vita dal profondo del cuore.